In alto a sinistra abbiamo il conte di Pistoia che posa la prima pietra della palestra della società di ginnastica Petrarca a San Clemente e siamo nel 2 settembre del 1925. Così la mostra fotografica a Rezzo, cent'anni in foto, diventa fruibile anche per i non vedenti. L'esposizione inaugurata alla Casa dell'Energia e che ci rimarrà fino al prossimo dicembre è stata curata dal fotoclub La Chimera. Tutta la storia di Rezzo, cent'anni dal 1961, si arriva anche a oltre un po' del 1960-1861-1961 perché questa mostra è un po' come fosse per noi l'Alfa e l'Omega perché l'Alfa quando abbiamo cominciato nel 99, l'ultima grande mostra in chimico, con le fotografie chimiche che sono i pannelli che vedete qui alla mia sinistra e sono incondiciati con le conici di legno e alla destra invece abbiamo le nuove generazioni, cioè le fotografie fatte con il digitale. Devo dire che grazie anche all'apporto di Ancos con Fartigianato ci ha dato fiducia, ci ha permesso di recuperare delle lastre storiche che purtroppo marcivano nelle scatole e quindi siamo riusciti a creare questa struttura. Io spero, spero veramente che i giovani si rendano conto di cosa era la nostra città perché purtroppo non lo sanno, non sanno cos'era l'abbastanzietto, non sanno cos'era il fabbricone. Io conto moltissimo in questa cosa. Grazie al contributo dell'Unione Italiana Cechi, sezione di Arezzo e di Ancos che ha finanziato questi speciali dispositivi che non sono altro che delle penne che una volta avvicinate ad un bollino colorato fanno partire dei file audio che descrivono la mostra. Nella parte in alto a destra abbiamo la premazione degli atleti della società ginnastica Petrarca, quindi già vedete negli anni venti era già attiva la società ginnastica Petrarca, mentre invece nella parte in mezzo a sinistra abbiamo la corsa ad ostacoli nella fortezza di Arezzo. Quindi vedete tutta una serie di atleti che corrono e saltano nell'attuale Prato. Non è assolutamente una magia, ma è certamente l'applicazione di uno strumento che consente a chi non vede o a chi vede male di poter fruire di una forma d'arte a cui i non vedenti erano fino ad ora preclusi. Credo che sia davvero importante creare le condizioni perché la tecnologia sia di supporto ad iniziative come questa che rappresentano nel panorama culturale della nostra città certamente un'attenzione e una sensibilità anche alla minorazione visiva che spesso non viene adottata. Quindi la potenzialità di poter fruire come tutti di un qualcosa che consenta di poter capire cosa rappresenta una determinata immagine è per noi motivo di orgoglio, di soddisfazione certamente, ma anche di opportunità che fino ad ora non c'era stata. Questo luogo si riappropria del suo ruolo dopo la pandemia, dobbiamo dire così. Esattamente, noi abbiamo riaperto le attività in questo periodo e ovviamente questa mostra è come dire anche il coronamento di un'attività importante. Ha preso campo in questa struttura che poi ha rappresentato tutto lo sviluppo industriale del Novecento qui ad Arezzo per poi essere traghettata verso un futuro, che è quello un futuro ecologico che Casa dell'Energia si aspetta, verso una transizione ecologica ed è un progetto importante perché ha anche una sensibilizzazione verso la generazione Z. Infatti questo è il titolo che abbiamo dato in fase di partecipazione pubblica al bando Ripartiamo Arezzo. Quindi ringrazio il Comune che ha in parte finanziato anche il progetto, tutti i nostri sponsor, il Lion Club che si è aggiunto con piacere nella parte finale e che ovviamente darà anche una eco importante. Quindi vi aspetto.